Io faccio così. Sto incambiando. Eh, perché tu mi chiedono il mio slab? Loro lo vedono, va a chiedere il mio slab. Bru? Sì. Adesso il prezzo. 81 figura. Dio mio. Guardi che l'ho venduta a 6200. Un po' di due. Ma no, però non ce l'ho detto. Ma pure di te lo vediamo. Beh, siamo su Apex comunque. Un secondo. No, è un altro team. Un po' di più. Un po' di più. Un po' di più. Un po' di più. Un po' di più Ma non sono una gomma... dai modo devo ricaricare pure io contact with top one minute rings nearby oh you picked up our squadmates banner you're the all right i gotcha 45 seconds ring ain't far good looking now just a scare one second beh quindi alla fine quello che sta da solo fama mia ring star on the corner head down airstrike danger contact with enemy Aspetta un attimo, però Riusciremo a battere anche questo qui Lui è l'ultimo Eccolo, lo vedo Bella Devo andare a rianimare questo